Il senso dell'onore e occhi di gatto, Lorenza indovina e orsetta dei rossi. E devi raccontare solo la storia della tua vita, mica ti mangia nessuno. Buonasera a tutti. E di buonasera, saluta. Niente, si vergogna, non vuole. E' rimasta timida, pure da trapassata, niente. Io invece lo ero prima e non lo sono ora, sono proprio... Lo devi raccontare tu come sei volata nel paradiso dall'amica, mica lo posso fare io che sogno di Caltanissetta. Tanto per cominciare, divergini qua neanche l'ombra. Siamo tutte donne di una certa esperienza. E va bene, era una battuta. Quando siamo da sole ci fa sempre ridere. E' brava lei a raccontare. Dai, dici almeno quella storiella, quella com'era? Quella del talebano, quella con la bocca larga. E va bene, comincio io. Nome Carmela, cognome rositano in Mantade. Mantade è il cognome da sposata, sono coniugata a Mantade. Nata a Caltanissetta, eccetera, eccetera, eccetera. Deciduta a Caltanissetta, il, eccetera, eccetera, eccetera. Per mano del suddetto marito, Mantade, totò. Motivazione? Delitto d'onore. Lo sai che vuol dire? E' come da voi. E' uguale. Tu a Tavizio e a Caltanissetta. Io un po' di anni fa e tu l'altro ieri. Io in Italia e tu in Iran. Io con la lupara e tu lapidata. Sei adulta, era pure tu che ci vuoi fare. Sono cose che capitano nella vita. Il problema è che se sei donna, sono cose che te la tolgono la vita. Che sempre. A Totò io mi ha dato solo cinque anni. C'era ancora quella legge che dava una mano a questi mariti disonorati. Ma adesso si è sposato un'altra. La mena solo. Per ora. Io qua sono una specie di veterana. Accolgo le nuove arrivate, le metto al loro agio, le divido per settori. Almeno fino a qualche tempo fa perché adesso c'è un pienone. Siamo tutte mischiate. Prima ci sistemavano per religione, razza, colore. Ma poi finì all'arrembaggio. Ma intanto lo sai come sono fatte le donne. Chiacchierano quando subito amicizia. Infatti stiamo tutti insieme. Persino ebrei e palestinesi. Serbe e bosniache. Gatti e cane. E poi, da quando sono arrivate le trance, si balla tutte le sere. Ci hanno portato questa musica brasiliana e la pace finì io. Signore, dono a loro l'eterno riposo. Io speravo di riposare, almeno da trapassata. E invece, un trenino tutte le sere. Queste non smettono mai. Allora, vuoi raccontare? Ecco, tale, ne arrivò un'altra. Ma è un continuo, eh. Ne ammazzano una ogni due giorni, solo in Italia. Fatti un calcolo, non mi fermo mai più. E da dove arriva? Cambogia. Non è la Cambogia. È qui che è diventata una Cambogia. Vabbè, io vado. Tocca a te ora a parlare del tuo amore dagli occhi di gatto. Lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto. Ma io ero sposata con Mahmed, che aveva 40 anni più di me. Mahmed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato, almeno questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata, il suo aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni. Ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto, segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai che la vita passa presto, come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto. E all'improvviso il vento si è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere, forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì, al mercato di Tabriz, su un letto di damaschi e sete preziose. Tutte mi chiedono, com'è morire sotto una pioggia di pietre? Il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Ma quello che mi ha fatto male veramente è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. Forse volevano pure il bis, ma io ero già sepolta. C'erano pure mio padre e mio fratello ad applaudire. Tutte mi chiedono, com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene. I parenti risparmiano per la tumba. Ma anche sotto tutte le pietre del deserto di Garmser nessuno potrà mai togliermi il mio amore dagli occhi di gatto.